Corpus Domini alle porte, centro di Campobasso, come sempre chiuso al traffico, l'amministrazione comunale sconsiglia l'utilizzo dell'auto per i concerti, che si terranno nell'area 20 del Selvapiana, ovvero Bundabash, sabato e domeniche subsoniche, ha attivato il servizio gratuito di navetta. Come al solito, la maggior parte delle strade del centro saranno chiuse al traffico. L'appello che l'amministrazione fa a tutta la cittadinanza è di preferire le uscite a piedi e attraverso i mezzi pubblici. In questi giorni sono attivi i servizi di navetta, sia la domenica mattina per la sfilata dei misteri, dalle 8 fino alla conclusione della manifestazione, e sia il sabato e la domenica sera per i concerti, i grandi concerti della zona di Selvapiana. Saranno attive diverse navette con diversi punti di partenza, dalle 18 fino alla conclusione delle manifestazioni. Saranno gratuite, sui canali social e sul sito dell'amministrazione trovate gli itinerari che percorreranno le navette. Per la questione giostra, invece, che resteranno anche dopo il corpus domini, installate nella zona industriale di Campobasso, mobilità ancora da definire. Bene chiarire che non c'è mai stata un'opposizione dell'amministrazione alle giostre. Semplicemente i luoghi utilizzati fino adesso non rispettano più le normative necessarie. Si è deciso, e c'è stata la condivisione anche dei giostrai, di localizzarne nella zona di Piazza del Primo Maggio. In questi giorni, insomma, dovrebbero attivarsi. Le giostre occuperanno una zona del Piazza del Primo Maggio senza variazioni di circolazione attorno.